Durò poco l'epopea dei lieviti e dei morti senza ferita, ammucchiati sotto le mura porose della deserta Troia digitale. Era ignoto il grano raccolto da macinare al buio di epoche in declino, altri, i pani da far crescere come figli imprevisti e cuocere al sole di distopie. Ma il guardiano di storie conosceva già quella fine raccontata dagli avi. Furono tenuti in disparte dagli uomini per ostentata profezia. Avvisaglie evolutive e coprifuoco sul teatro della storia. Preservi dalla sventura la madre di future bianche farine. Non ti chiede di distogliere dalla vita la crudele Signore invisibile, il tuo sguardo assetato di lievito figlio. Non ti chiede di distogliere dalla piaccia. Sanse, ossia l'assistente vera il tuo fine raccord.